Buongiorno a tutti e bentornati a Fisicamente. Oggi vorrei fare un video al volo per darvi un altro punto di vista. Ieri è stato l'anniversario della nascita di Margherita Hack, è stato il suo compleanno e ovviamente ci sono stati vari interventi su YouTube, su Instagram, per televisione per ricordare questo evento, però volevo raccontarvi un'altra storia, o meglio la stessa storia da un altro punto di vista, perché tutti parlano dell'attività di divulgatrice, quando si parla dell'attività di ricerca di Margherita Hack, sì si menziona che è stata direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Triestre, che ha portato la ricerca in Italia, ha portato le donne nella ricerca e via dicendo, però non si parla mai di che cosa ha fatto veramente Margherita Hack durante tutta la sua carriera da astrofisica. Quindi è proprio di questo che vi vorrei parlare oggi, di tutto il resto si è già parlato. Allora, senza voler sfatare un mito, ma volevo semplicemente dire la verità, Margherita Hack non è stata da sempre innamorata della ricerca e tantomeno dell'astrofisica, tanto è vero che all'inizio lei non sapeva nemmeno cosa fare all'università, è stata iscritta a lettere dai suoi genitori, dal padre. Solo che, come spesso diceva lei anche durante i talk show, durante la primissima lezione si annoiò tantissimo e quindi lì aveva già capito che c'era qualcosa che non andava in questa scelta. Ed è andata a iscriversi invece a fisica perché lì c'andava una sua compagna di liceo. Quindi anche questa è stata una scelta, diciamo, un po' fortuita. Si laurea non alla fine della guerra perché aveva altri pensieri in quel momento, ma subito dopo, nel 1945, con una tesi che lei proprio ha voluto non farla compilativa, ossia non ha voluto andare a fare ricerca in biblioteca, a vedere cosa era già stato pubblicato dal punto di vista degli articoli scientifici e mettere insieme vari pezzi e fare una tesi compilativa, ha voluto fare una tesi osservativa. E l'ha fatta su quelle che sono chiamate le stelle variabili. Quindi questo è stato il primo traguardo che ha iniziato, che ha fatto poi iniziare la sua carriera nell'ambito dello studio delle stelle. Le stelle variabili sono una particolare classe di stelle che non sta ferma come il nostro Sole, che come dimensioni e quindi luminosità è abbastanza costante. Le stelle variabili si allargano, si restringono, respirano in qualche modo, quindi la loro luminosità cambia nel tempo. Se noi andiamo a vedere in funzione del tempo il grafico della luminosità, si vede che va su e giù, quindi la luminosità cala e cresce in maniera ciclica. E lei ha proprio fatto la tesi su queste stelle. E poi per gran parte della sua carriera Margarita Huck si è dedicata proprio a quella che è chiamata lo studio delle stelle, poi lo studio delle galassie, in quanto galassie formate da stelle, ma l'ha fatto da un punto di vista prettamente spettroscopico. Ossia, cosa vuol dire? Margarita Huck ha studiato moltissimo la luce delle stelle. Con la luce delle stelle, sparpagliando la luce in un piccolo arcobaleno, si riescono a creare quelli che sono gli spettri della luce delle stelle e all'interno di questi spettri, all'interno di questo piccolo arcobaleno che va dal rosso al blu, si vedono anche delle piccole linee, che sono chiamate le linee di assorbimento. Ho fatto già diversi video in cui vi parlo degli spettri, dei diversi tipi di spettri, delle linee di assorbimento, dei profili di Voight, quindi tutte le informazioni che si possono estrarre analizzando la luce degli spettri delle stelle. E Margarita Huck ha fatto proprio questo. E uno ha passato l'inizio della sua carriera lavorando sulle stelle variabili, però poi è diventata molto famosa in quanto ha studiato una stella nella costellazione dell'Auriga, una stella molto particolare, anche questa aveva una luminosità che andava su e giù, però Margarita Huck è stata la prima a dire che, secondo me, lì davanti a questa stella ci passa qualcosa in maniera regolare. Quando questo qualcosa ci passa davanti, parte della luce viene assorbita ed è per questo che la luminosità cala. Lei aveva ipotizzato che attorno a questa stella ci fosse un'altra stella fatta di diversi gusci, di diversi strati, e aveva ipotizzato, teorizzato, e previsto anche, che quando questa compagna, questa stella secondaria, passava davanti alla primaria, questa stella secondaria iniziava ad emettere della luce particolare, non una luce all'interno dello spettro che noi possiamo vedere, quindi tra il rosso e il blu, Margarita Huck ha detto, secondo me questa stella va a emettere della luce nell'ultravioletto, che è una, semplicemente un'altra banda di frequenze, di radiazioni, semplicemente al di sopra del violetto, per questo è chiamata ultravioletto. Dall'altra parte ci sarebbero quelli che sono gli infrarossi, ma sono esattamente d'altra parte, no. Margarita Huck lavorava con gli ultravioletti, ha detto, secondo me, quando questa compagna passa davanti, si vedono gli ultravioletti. Per verificare questa teoria, si sono dovuti aspettare un paio di decenni che mandassero nello spazio un satellite con un telescopio in grado di poter vedere gli ultravioletti. e quando la stella, compagna, è passata davanti alla stella principale, quello che si è visto è proprio, lei ha detto, sullo schermo si è iniziato a vedere delle bande di emissione negli ultravioletti e quella è stata la più grande soddisfazione della sua vita. Perché si è dovuta aspettare? Perché non potevamo vedere queste cose già da terra? Perché da terra gli ultravioletti non si vedono benissimo. Perché? Perché noi abbiamo tutta l'atmosfera sopra di noi e l'atmosfera, che non è altro che l'aria, che si estende dalla superficie della terra fino a decine di chilometri, le molecole dell'aria, l'assigeno, l'azote, vi dicendo, mangiano, assorbono la maggior parte di questi ultravioletti ed è per questo che noi non possiamo vedere bene le stelle nell'ultravioletto da terra, si è dovuta aspettare di mettere un telescopio in orbita. Tutto qua. Dopo ovviamente ha continuato la sua carriera continuando ad analizzare gli spettri delle stelle e dopo che si è capito un attimino meglio come funzionano le stelle, è andato a vedere anche come funzionano le stelle all'interno delle galassie, ossia qual è il ruolo di cambiamento delle galassie da parte del contributo di ogni singola stella. E per fare questo un'altra parte considerevole della sua ricerca è stata sulle stelle che emettono un sacco di materia in quello che è lo spazio circostante. Queste stelle sono molto molto grandi, ruotano attorno a se stessi ad altissima velocità e queste vanno ad emettere nello spazio circostante brandelli della propria materia, i brandelli degli strati più esterni delle stelle viene proiettata nella parte tutto intorno e questo va a contribuire a quello che è chiamato l'arricchimento del mezzo interstellare. Anche qui Margherita Haack è stata una pioniera. Nulla, questo era quello che vi volevo raccontare per dare un po', non il dietro alle quinte, ma in realtà la parte principale della carriera astrofisica di Margherita Haack. Per tutto il resto, come detto, trovate vari saggi, libri, tutto quant'altro in rete, in libreria. Se avete domande, come sempre, lasciatemi un commento, autostoppista, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e alla prossima!